9 marzo 2018 Milano una nuova tragedia scuote il mondo del calcio dopo la morte di Davide Astori Thomas Rodriguez, centrocampista 18enne del Tour, stato ritrovato senza vita nel suo letto dal suo compagno di stanza nel centro di formazione della squadra di Ligue 2, la Serie B francese La Lega calcio francese ha deciso di rinviare la partita tra Tour e Valassiane in programma questa sera Sarò osservato un minuto di silenzio sugli altri campi di Ligue 1 e Ligue 2 Davide Astori, l'ultimo saluto nella sua San Pellegrino